sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare maxi dal case e oggi vi presento l'appartamento avvenire siamo in via cardinal garanti 84 vi faccio vedere la faccio e è una via tranquilla riservata parallela definita sacchetti tra piazza pionono che è lì verso in quella direzione e il gemelli e forte brassia in quell'altra direzione quindi come vedete l'affaccio da questo lato è un affaccio ad ovest molto aperto primo balcone la casa viene venduta per intera proprietà ma con un diritto di abitazione di una signora di 88 anni questa è la stanza sono circa 18 metri come vedete entrano un bel po di cose il l'ingresso lì con cui un armadio a muro profondo 70 centimetri c'è anche l'attacco per la lavatrice e da questa parte invece la cucina eccola qui con un altro balconcino laterale dove c'è anche la caldaia qui dietro per riscaldamento autonomo condominio sono 40 euro al mese e c'è anche chiaramente il bagno la casa sta in buonissime condizioni la signora tiene bene chiaramente gli impianti sono un pochino datati mentre ciò che è nuovo è la porta blindata e gli infissi che sono in alluminio doppio vetro e le serrande che sono nuove tutte inferiate alle finestre zanzariere quindi questo è un ottimo investimento per vedere casa dal vivo contattatemi e vi aspetto anche perché questa può essere una casa in un futuro modificata per creare un piccolo soggiorno con angolo cottura camera e bagno soggiorno 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 per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi soggiorno 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 soggiorno